Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Silvia Tofanin, imprevisto nella prima puntata di Verissimo, chiedo scusa. È iniziata oggi, sabato 9 settembre, la nuova stagione di Verissimo, il programma condotto da Silvia Tofanin. La stagione televisiva, infatti, sta per entrare nel vivo e man mano a settembre ricominciano tutti i programmi più importanti. La settimana prossima sarà anche il turno della nuova edizione di Grande Fratello. L'appuntamento con Verissimo, però, è iniziato con un imprevisto. La Tofanin è tornata nel suo salotto, accolta dal calore del pubblico, ma con un imprevisto. La conduttrice ha avuto infatti qualche problema alla voce e si è scusata prima di iniziare. Queste le sue parole ben trovati, ricomincia Verissimo. Vi chiedo scusa perché ho la voce un po' bassa, ma spero che vada tutto bene e di riuscire a farmi sentire. La conduttrice ha poi annunciato gli ospiti della puntata, Mirta Merlino, new entry in casa Mediaset, Grecia Colmenares, pronta a entrare nella casa del Grande Fratello. L'attrice rosa di Letta Rossi, che vedremo in una fiction la prossima settimana, Maria Corleone, il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e Virginia Mialovic, la figlia dell'ex calciatore ed allenatore di Serie A, scomparso prematuramente.